Assessore sta seguendo gli incontri tra Regioni e Dipartimento Nazionale di Protezione Civile. Che cosa sta emergendo e qual è la situazione ad oggi? Devo dire che ancora c'è una certa confusione, ma soprattutto non c'è alcuna certezza né sulle modalità con le quali affrontare questa emergenza, ma neanche su come sia l'emergenza. Perché ad oggi c'è l'arrivo in Italia di tutta una serie di persone che vengono via da quelle realtà di guerra, ma che hanno canali loro, canali privati, chi ha una famiglia che conosce, che ha un parente in Italia. Quindi arrivano in autonomia e non sono seguite dalla Protezione Civile. Dal Dipartimento di Protezione Civile Nazionale non c'è ancora, né verso la Regione Marche, ma neanche verso le altre Regioni, una richiesta di redistribuzione di profughi. Sinceramente però ce l'aspettiamo. Allora cosa ci stiamo muovendo? Siamo veramente su due settori. Intanto dal punto di vista sanitario dovremmo valutare, indipendentemente di come arrivano, se alla spicciolata, come dicevo prima, o se organizzati, queste persone vanno comunque verificate se hanno il vaccino, se sono positive, se devono fare delle quarantene. E questa è una questione che va assolutamente affrontata. D'altro canto noi ci stiamo attrezzando anche per un eventuale flusso più consistente di quelli che vengono redistribuiti magari nei vari paesi europei, che succederà da un giorno all'altro, perché è molto copiosa questa situazione, molto pesante. Su questo stamattina abbiamo un attimo attivato l'Associazione Albergatori delle Marche per ipotizzare un protocollo di intesa tra Regione Marche e Associazione Albergatori, dove si dice se nel giro dei prossimi giorni arrivano determinati numeri di persone, 100, 200, 300, 400 che possono essere, ci date la disponibilità di stanze per le quali noi vi preallertiamo tre giorni prima. Abbiamo chiesto all'Associazione Albergatori di farci una proposta di costi e di disponibilità di stanze da qui alle prossime settimane e ai prossimi mesi. Esiste invece un protocollo per quanto riguarda la raccolta di medicinali, cibo e quant'altro? Allora, su questo ci sono, come già detto nelle ore scorse, tantissime iniziative meritorie di cittadini attenti che cercano medicinali, vestiario, derrate alimentari. Allora, il punto è questo. Se queste persone o queste associazioni hanno già dei punti di riferimento di famiglie che sono già arrivate o hanno dei punti di riferimento di famiglie che sono magari alla frontiera, che stanno aspettando, bloccate da qualche parte, che benvengono queste iniziative, ma ad oggi non ci sono da parte del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, né da parte delle prefetture, né da parte del Ministero degli Interni, indicazioni su dove e cosa portare fuori dall'Italia, fuori dalla nostra regione. Quindi una raccolta, una richiesta da parte della regione Marchi oggi su questo non c'è. Abbiamo allertato le nostre ASUR per predisporre dei quantitativi di medicinali che invece probabilmente saranno raccolte nei prossimi giorni perché quella è effettivamente un'esigenza che poi andrà in qualche modo salvaguardata. Grazie.